Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, sono da Lidl dopo un'infinità di tempo ragazzi, non venivo qui da mesi, mesissimi! Sono tornata, qui c'è anche mio marito, sono tornata perché voglio vedere tutta, tutta, tutta la linea di Halloween e quindi andiamo insieme a scoprire che cosa troviamo. Emozionatissima, veramente un sacco di tempo che non ci vengo, vediamo un po', vediamo un po', si sente l'odore del Lidl. Allora per Halloween troviamo queste ciambelline, i donut di Halloween a 59 centesimi, super carini! Ricordo che qui da Lidl quando è Halloween ci sono sempre tantissime cose, avevo visto il volantino online e quindi mi sono lasciata incuriosire, perciò non potevo non venire. Allora eccoci qui, iniziamo a vedere che cosa troviamo. Allora questi qui ricordo che c'erano, ah no, queste sono tortillas, oddio che figata, sono tortillas blu, figata, poi ci sono queste qui che sono delle patatine tipo salate con, diciamo a forma di pipistrello e queste ha il gusto pomodoro oppure ha il gusto paprika o peperone, queste qua sono vegan comunque. Poi cosa abbiamo? Vabbè queste sono tutte uguali. Ah queste sono a forma di pipistrello però, no più che altro tipo anche con il ragno, non so ragazzi. Comunque i prezzi sono 1,19, invece le tortillas blu 1,79. Questo invece è un mix di caramelle, sempre per Halloween, all'interno ci sono diversi pacchetti e anche varie, come dire, vari lecca lecca. Stavo cercando il prezzo ma non lo trovo in realtà. Abbiamo poi queste caramelline trolli proprio appunto in stile completamente halloweeniano. Queste qua vengono, ragazzi purtroppo vorrei essere più precisa sul prezzo ma non riesco a darvelo perché non c'è scritto. Cioè o forse siccome sono novità non si riesce a capire bene i prezzi, però per esempio di queste trolli qua io non riesco a vedere quanto costano. C'è il prezzo dei tovaglioli, piatti di carta, bicchieri, eccetera, però non c'è il prezzo di questi. Comunque qua abbiamo, ecco qui, i Rainbow Cookie, questi qui c'erano anche l'anno scorso e questi qua vengono 1,49. Poi c'è questa box con tutte queste caramelline gommose e questa qui viene 4,99 e più o meno sono tutte uguali. All'interno ci sono anche delle caramelline azzurre. Poi c'è questo teschio, orribile ragazzi, bruttissimo, con caramelle viene 5,99, però dentro ci sono anche i cioccolatini, insomma ci sono anche i prodotti di marca. C'è poi la pasta questa qui di Halloween, bicolore, che viene 1,29 euro. Ci sono anche i teschietti fatti in questo modo con all'interno giusto qualche cioccolatino, così, ma ripeto di questo purtroppo non riesco a dirvi il prezzo. Ah no, bicchieri con cannuccia 2,99 e ci sono in verde e in arancio con la zucchetta e con il teschio. La scary box di Fini c'era anche l'anno scorso e viene ancora 2,49 euro, ricordo il prezzo. Ho comprata l'anno scorso per le mie bimbe e costava uguale, questa è carinissima e dentro ci sono tante caramelline gustose. Poi ci sono appunto i bicchieri di Halloween, i tovaglioli fatti in questo modo, oppure in arancio, anche l'anno scorso c'erano così. Oppure, ecco sì, questi classici che abbiamo visto prima, oppure carini. I piatti, opla, i piatti sono fatti in questo modo, in arancio e mi pare, no, mi sa che sono tutti uguali ragazzi. I piatti sono questi, o questi o niente, i bicchieri. Tutti questi vengono 1,49 euro al pezzo. Anche queste patatine al ketchup, ci sono in appunto rosso, quindi ketchup. Questi qui verdi erano a sour cream ragazzi, è sempre 1,19 euro. Poi passiamo di qua e troviamo le caramelle, anzi questi sono dei cioccolatini, cioccolatini al latte a 1,19 euro. Questi qui al cioccolato fondente, poi anche queste formine, simpaticissime, tutte cioccolatose, a 3,50 euro. Poi ci sono anche i marshmallow, ottio simpaticissimi, questi qui i marshmallow vengono 1,49 euro. Ci sono anche le decorazioni in zucchero per fare dei dolcetti, oh, che carini, questi qui vengono 1,99 euro. Mi pare che i marshmallow, voglio capire se sono tutti uguali, mi pare di sì, c'è dentro il fantasmino e la zucchetta, quindi sì. Poi ci sono le caramelline, queste già solo a guardarle, praticamente si cariano i denti, a 1,50 euro. Tre caramelline gommose con all'interno dei tatuaggi sempre a tema Halloween, ovviamente immancabili le caramelle con la dentiera del vampiro. E dei biscottini con cioccolato al latte a forma di zucche e i vari personaggi appunto di Halloween. Palline di cioccolato a forma di occhietti e zucchette. Sono anche le caramelle gommose dei Minions e questi qui tipo che dentro si illuminano, c'è qualche personaggio che si illumina. Sempre appunto tutto a tema, assolutamente halloweeniano. Rotoli di carta per Halloween a 1,79 euro. Ciao amici, eccomi qua, sono in fase di montaggio video e mi sono resa conto che mancano delle clip da aggiungere a quelle che avete visto fino ad adesso. Perché poi da Lidl, scusate perché sto montando un po' di video quindi ho le idee un po' confuse tra i vari supermercati che ho girato. Da Lidl poi ho visto tantissimi altri prodotti relativi ai surgelati, congelati, quindi c'erano tantissime altre cose che ho visto. Ma non riesco più a trovare queste clip, questi file. Non so come sia possibile, se ha dato di matto la memoria del telefono oppure anche il computer. Stavo provando a cercare in più fasi, ma non riesco a trovare in più cartelle, ma non riesco a trovare davvero il continuo del video. Mi dispiace tantissimo, anche perché c'era parecchio materiale da poter aggiungere e mi dispiace anche dover rinunciare a far uscire questo video proprio perché comunque sono andata apposta da Lidl a fare un giro, vedere eccetera. Quindi ho pensato di registrare questa parte finale per dirvi appunto che è successo questo. Vedo se riesco a scappare in settimana un'altra volta appunto da Lidl per vedere poi se trovo anche ragazzi tutta la parte dedicata ai surgelati che avevo visto perché poi queste cose sono cotte e mangiate cioè appena praticamente le trovi devi subito o comprarle o filmarle eccetera perché poi se torni dopo qualche giorno già sono finite e già non trovi più niente però assolutamente ci tenevo a non lasciarvi in sospeso quindi appunto vi volevo dire questo. Sono andata, ho fatto tutto quello che devo fare però purtroppo non trovo la parte finale diciamo del video evidentemente ci sarà stato un problema sul computer o sul telefono in fase di montaggio mi sto rendendo conto di questo, mi dispiace tantissimo ragazzi. Quindi mi trovate qui mentre sto montando il video che vi registro proprio per spiegarvi che cosa è successo. Comunque vediamo ripeto se riesco a scappare in questi giorni e quindi ci sarà una seconda parte di questa tipologia di video. Io vi mando un bacione grande, vi ringrazio comunque per aver seguito il video fino a qui e ovviamente ne ho approfittato per darvi un super saluto. Non fate caso alle cose che ci sono qui ma praticamente mi trovo proprio nello studio davanti al computer mentre sto montando c'erano Iris e Bianca che giocavano qui dietro a me e niente ragazzi vi volevo soltanto avvisare di questo. Un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! Ciao!